Al Parco Verde di Caivano c'è un nuovo campo sportivo, l'obiettivo è duplice, uno di inclusione per i giovani ma anche aprire una nuova area, un nuovo spazio di socializzazione, ce ne parla Piero Vitiello. Il ruolo della WISPA all'interno di questo progetto è quello di essere, attraverso le nostre competenze, il nostro know-how, di essere lo strumento, lo strumento per le associazioni di essere cittadinanza attiva. Lo sport è lo strumento, ora toccherà ai residenti rendere presidi di legalità e di coesione sociale questi spazi per troppo tempo abbandonati. Non certo un compito semplice a Caivano nel Parco Verde dove degrado e criminalità soffocano spesso i sogni dei bambini ma dove un progetto ribattezzato la bellezza necessaria ha reso possibile l'inaugurazione di un nuovo campo polivalente. Basket, calcio, pallavolo riempiranno le giornate di ragazzi a rischio provando a tenerli lontani dalla strada e dai suoi pericoli. Le istituzioni devono sicuramente supportare quelle che sono le attività del terzo settore per dare delle opportunità ai nostri ragazzi. Questo è un esempio magnifico attraverso il quale con un finanziamento un ragazzo potrà fare sport e il binomio fare sport se però frequenti la scuola mi sembra assolutamente perfetto.